Dieci cose da fare a Malta, l'ultima ti lascerà senza parole. Passeggia per il centro storico della Valletta e ammira il Caravaggio all'interno della cattedrale. Assisti allo sparo dei cannoni all'Upper Baracca Gardens ogni giorno alle 12 e alle 16. Spostati in gondola fino al borgo di Birgu. Prendi il traghetto per Gozzo e Comino, da Marfa a soli 15 euro andate in ritorno. Fai un'escursione in kayak a Gozzo. Visita la grotta Talmixal Cave e le saline di Gozzo. Fai il bagno nel Blue Lagoon, uno dei posti più instagrammabili dell'isola. Prova i pastizzi e il coniglio alla Maltese. Trascorri una serata a Marsaclock, un bellissimo borgo di pescatori. E non dimenticarti di visitare il Popeye Village, sul set del film Braccio di Ferro. Salvalo per il tuo prossimo viaggio a Malta e seguimi per altri consigli di viaggio. Grazie a tutti.